La 47esima settimana sociale dei cattolici italiani, ospitata a Torino, ha sviluppato il tema Famiglia, speranza e futuro per la società italiana. Hanno partecipato oltre 1300 persone provenienti dalle 226 diocesi italiane e da centinaia di associazioni. All'incontro di apertura al Teatro Reggio, tra i partecipanti, 80 vescovi, 220 sacerdoti, centinaia di delegati della pastorale sociale e della pastorale familiare e un nutrito numero di autorità e personalità di Torino e del Piemonte.